È un momento importante di networking dedicato a imprenditori ed aziende che incontrando si possono condividere la propria visione, immaginare nuove strategie e possibilità di business. Quindi insieme si può realizzare un progetto di crescita e di sviluppo e si parte dal territorio e si parte da un posto che vuol dire lavorare insieme. L'iniziativa Connex rappresenta a tutti gli effetti un cambio di passo e un cambio di mentalità. Aiuta le aziende a crescere, le mette in rete, a conoscersi. Consentirà di superare anche i problemi legati in ogni caso alla contiguità fisica e quindi consente a ogni azienda di conoscersi meglio. In questo senso credo che anche materializzare questa dinamica e concentrarla all'interno di uno specifico momento come sarà Connex sia una straordinaria opportunità perché il progetto e la militanza di rappresentanza in Confindustria sia anche un potente strumento di crescita per le singole imprese ma per tutte insieme della comunità delle imprese del nostro paese. Oggi il contesto competitivo è un contesto necessariamente internazionale, ci sono molte minacce ma anche molte opportunità. Questo è un modo che Confindustria ha elaborato per cercare di essere vicina alla necessità evolutiva che le imprese hanno. Quindi Confindustria ancora una volta cerca di percorrere i tempi e i suoi cambiamenti. Quindi non solo più rappresentanza dal punto di vista sindacale ed industriale politico ma anche un progetto fatto per gli imprenditori. Un'opportunità irripetibile in cui la raggiunta di Confindustria si manifesta in maniera completa. Penso che sia una cosa veramente importante proprio anche per fare rete, per conoscerci e far crescere e aiutare specialmente anche le piccole imprese in questo percorso di crescita. Liberiamoci da certi eccessi di formalismo, siamo più naturali, dimostriamo quello che siamo, qual è il nostro spirito peritoriale e mettiamolo tutti a fattore comune.